L'ambito della rassegna Uomini e Mare, organizzata in collaborazione con Palazzo Reale e Castello d'Albertis, la biblioteca universitaria di Girema ospita la mostra I Mestiri del Mare, Uomini a terra e a bordo fra 8 e 900, che è stata inaugurata il 28 aprile e rimarrà aperta sino al primo di luglio. La mostra si articola in tre sezioni, una sezione fotografica con immagini raccolti da archivi pubblici e privati dell'8 e del 900, libri appartenenti alle collezioni della biblioteca e una serie di cinevi prestati da privati e da associazioni sportive. La mostra intende evidenziare al pubblico qual è stato il ruolo del mare e dei mestieri adesso connessi per la nostra regione e in particolare per la nostra città nei secoli passati, soprattutto a cavallo fra 800 e 900, quando c'è stato il boom industriale, il grande sviluppo economico del nostro Paese è unito e il genere è diventato il principale porto italiano, cosa che è tuttora.